Alla ricerca delle tracce biologiche della vittima sulla Megan Chenique di Federico Ferrini, il 37enne casentinese in carcere per l'omicidio di Maria Venazio de Sousa, la 60enne brasiliana uccisa nel suo appartamento di Via della Robbia lo scorso 26 agosto. Si tratta di accertamenti tecnici irripetibili disposti dalla procura di Arezzo che saranno eseguiti domani dalla polizia scientifica in questura, dove tuttora si trova l'auto del 37enne sotto sequestro. Saranno presenti anche i consulenti della difesa che ha già nominato i propri esperti. Il materiale poi sarà analizzato nei laboratori fiorentini dove in questi giorni sono iniziate anche le analisi sulle tracce biologiche trovate e ripertate all'interno dell'appartamento di Via della Robbia dove la donna riceveva i clienti e sugli indumenti di Federico Ferrini. Dunque gli ultimi accertamenti che serviranno agli inquirenti per chiudere il cerchio per dare così un riscontro scientifico al racconto del reo confesso che si trova attualmente nel carcere a Retino di San Benedetto. Il 37enne infatti ha ammesso prima di fronte agli agenti della mobile e poi davanti al GIP a Fabio Lombardo di essere lui responsabile dell'omicidio della 60enne brasiliana. Ha confessato di averla uccisa con tre colpi alla testa e poi di averle stretto un laccio attorno al collo. Un puzzle investigativo che adesso aspetta solamente di sistemare le ultime tessere. Inquirenti infatti cercano di far piena luce sul movente che non convincia pieno e sulla dinamica del delitto.